Ben trovati alle TG Med Sport, ben trovato a Salvatore Geraci, opinionista del Corriere dello Sport. Ciao Salvatore. Ciao Luca, un saluto a tutti i telespettatori. Ti faccio parlare proprio di Corriere dello Sport in apertura perché c'è stata una bella intervista a Giorgio Perinetti, il direttore responsabile della tecnica del Palermo, che parla del suo progetto giovane. Cosa intende dire? Lo suo progetto giovane? Al primo punto ci sono io. Ti immagini uno che apre un progetto giovane con un settantenne sarebbe storico. Perinetti dice delle cose secondo me assolutamente interessanti. Noi ci siamo accorti attraverso la crisi generale che bisogna fare un passo indietro. Non più voli pindarici, non più gettare fumo negli occhi ai tifosi oppure andare a fare investimenti importantissimi perché non ci sono più i mezzi. Il Palermo lotta per sopravvivere e quindi bisogna abbassare il tiro, ampliare il settore giovanile, dare il giusto peso al settore giovanile, andare a scegliere nelle fasce inferiori, cioè in terza fascia, per poi prendere giocatori che invece sono da prima fascia. Essere bravi e attenti nello stesso tempo. Mi sembra un progetto condivisibile e ritengo che lo stesso Zamparini lo condivida. A proposito di corsa verso il Bari, Bari che lo sapete porterà i libri contabili in tribunale la prossima settimana. La squadra è abbracciata dai tifosi in questi giorni che sono complicati e invece parla maresca di quanto è stato complicato calarsi nella nuova mentalità del campionato di Serie B. Le partite che io ho giocato qua sono state quattro, anche a livello personale, credo di aver disputato dei momenti buoni e dei momenti meno buoni, però credo che quello ci sta e quindi sono fiducioso per quanto riguarda il futuro perché sono convinto che sia a livello personale sia a livello di squadra ci troveremo sempre meglio. Delle quattro partite che ho giocato, tutte e quattro avevo delle marcature a uomo e quindi diventa più difficile. Tante volte devi essere intelligente, anche magari non ricevendo palla, però fai un movimento che può creare uno spazio per un compagno e far sì che il compagno possa ricevere palla, quindi i tempi di reazione sono brevi, devi ragionare subito e tante volte devi ragionare prima che ti arriva la palla e quindi diventa difficile, però comunque quello è il mio ruolo e quindi lo faccio ben volentieri. Nella mia carriera penso che quella era nei 17 anni da professionista la terza, non vorrei sbagliare. Direttamente rosso penso che sia stata la seconda, non credo sia importante, non mi era mai capitato a 26 anni della fine e credo che comunque gli arbitri come noi possono eventualmente sbagliarsi. Io credo che in quel caso là, come direi a me stesso se sbaglio un gol, che ho sbagliato un gol, in quel caso là direi all'arbitro che comunque non ero d'accordo, non era un fallo d'espulsione, però ripeto il lavoro dell'arbitro è difficile, tante volte sei a casa e anche da casa con il replay vedi un'azione e dici ma è fuori gioco o non è fuori gioco? Quindi anche per loro è una frazione di secondo, l'arbitro può sbagliare e magari in quel momento non la prendiamo bene, però ci sta e bisogna cercare di dargli una mano. Maresca dice un paio di cose interessanti, la prima è che è stato veramente difficile per lui calarsi nel campionato di Serie B e soprattutto datemi ancora un po' di tempo perché non ho ancora la squadra in mano. Beh è l'umiltà del grande campione questo qui, è l'umiltà del grande campione e mi fa piacere io ho posto queste due domande che mi sembravano essenziali e lui ha risposto con una sincerità veramente disarmante, cioè lui dice io sono qui pronto, ho fatto delle cose buone, altre non le ho fatte però i ragazzi mi fanno sentire importante, capisco che questa è una squadra che mi può appartenere e insomma il Palermo studia proprio per questo. Mi è piaciuto proprio l'umiltà con cui si è calato perché in fondo lui non ha fatto né meglio né peggio di quelli che l'hanno preceduto quindi insomma è poi un campione che arriva qui con tanti anni alle spalle in giro per il mondo da quando è nato, con titoli, dopo titoli conquistati. Insomma dire una cosa del genere significa che il Palermo può contare su un protagonista di assoluto valore. Parliamo di Trapani con la carta sorpresa di Roberto Boscaia e Mario Pacilli è stato utilizzato come jolly, di fatto poi ha dato anche il via all'azione che ha portato al 2-0 realizzato da Mancosu, è arrivato a 17 gol in campionato. Ascoltiamo Mario Pacilli. Questa è una dimostrazione che sabato è capitata a me ma comunque è capitata anche ad altri che comunque chi sta giocando meno si fa sempre trovare pronto e questa è una dimostrazione che il gruppo è unito e che tutti quanti rimbiamo dalla stessa parte, tutti vogliamo il bene di questa squadra e tutti cerchiamo di farci trovare pronti quando veniamo chiamati in causa. Sabato sapevamo che poteva essere una partita difficile come alla fine lo è stata perché comunque anche loro hanno espresso un buon calcio e ci hanno provato a mettere in difficoltà durante la partita, però siamo stati bravi sia all'inizio quando abbiamo subito cercato di inirizzare la partita nel modo migliore, infatti siamo riusciti facendo gol e poi credo che comunque nel momento migliore loro noi siamo riusciti a fare il 2-0 che lì poi le cose si sono incanalate nelle migliore dei modi. Con lo spirito, ovviamente non dico con la tranquillità ma con la consapevolezza che stiamo facendo bene, quindi vogliamo continuare a farlo, la voglia c'è e quindi andiamo lì con la voglia che ci ha contraddistinto in tutte queste partite, quello di cercare di fare sempre bene e fare i più punti possibili. C'è una indagine che parla di un campionato poco spettacolare in Serie B e le cose più belle le stanno facendo il Trapani e il Crotone che sono insomma due squadre anche abbastanza giovani con due progetti diversi, non ci stancheremo mai di dirlo ma il Trapani a questo punto può essere inserito tra le grandi di questo campionato. La squadra più anziana è il Trapani contro una delle squadre più giovani però con due progetti uno più bello dell'altro ed è questa la cosa più importante. Poi tu hai detto una cosa secondo me di assoluta rilevanza cioè il Trapani che è lanciato e che gioca in maniera sbarazzina senza pesi sulla testa e mi ricorda per certi versi quella miracolosa Serie A conquistata da Bortolo Mutti se tu ti ricordi col Messina proprio l'anno in cui il Palermo andava in Serie A siamo nel 2004 e quella fu proprio la forza di un gruppo di giocatori che arrivò lì e conquistò la promozione proprio perché aveva una voglia matta di affermarsi. Noi parliamo di Catania con Bergessio squalificato, Castro operato al ginocchio, l'intervento è dato per il meglio e notizie confortanti invece per Barrientos che ritorna ad aumentare i propri giri e dunque per la sfida di Marassi contro il Genoa dovrebbe essere disponibile. Ti voglio fare e chiudere questa edizione di oggi con una riflessione perché oggi è una giornata di Europa League, il Palermo fino a qualche anno fa era in Europa League, ora in Europa League ci sono Napoli, Juventus, Lazio e Fiorentina. È cambiato il calcio? No, è cambiato il calcio? No, assolutamente il calcio è stato sempre questo, nel senso cioè che le squadre più ricche, le squadre che possono fare gli investimenti migliori finiscono sempre in prima pagina e le altre devono fare dei miracoli per arrivare. Il Trapani lo sta facendo a suo modo ma anche perché si è abbassato appunto il livello e quindi tu hai la possibilità di programmare in una certa maniera. Il Palermo ha abbassato un po' il tiro da qualche anno a questa parte e i risultati si sono visti, cioè tu non puoi permetterti di investire anziché 10-2 e pensare che sempre ti vada bene. arriva il momento in cui puoi fare anche i conti con un'annata sfortunata oppure con investimenti che non hai centrato e ne paghi il Dazio. La verità è questa, ma il calcio rimane sempre in mano e in pugno in maniera solida alle squadre che hanno mezzi straordinari. Basta guardare la Champions. Grazie, ma Salvatore Geraci, ci vediamo nelle prossime edizioni. Grazie a voi, arrivederci. Vi ricordo che tutte le edizioni del TG Medesport le potrete rivedere sul sito trmweb.it Non ci sono altre notizie, grazie per essere stati con noi e arrivederci. Panificio Badalamenti, infinite specialità da gustare. Arancine, un euro. Pizze familiari, a soli 5 euro. Panificio Badalamenti, panificio, rosticceria, pizzeria, dolci classici e moderni. Panificio Badalamenti, sacca tubana, un timipenti. Via Francesco Crispi, numero 290, a Palermo. Infoline 388 9088 192